Allopurinolo, che cos'è? A cosa serve? Perché lo usiamo durante la terapia della leisbonosi canina? Perché tanti lo temono? Perché tanti lo amano? Parliamone. Allopurinolo. L'allopurinolo è un farmaco nato in medicina umana per ridurre la gotta, per ridurre l'accumulo di acido urico. Come lo fa? Lo fa bloccando un enzima, che è l'enzima che converte l'axantina in acido urico. Noi lo usiamo per la leismania perché assomiglia molto a una purina, la purina è un nutriente della leismania. Quando lo diamo al cane che ha la leismaniosi, il parassita leismania incarcera l'allopurinolo pensando che sia un nutriente, non è un nutriente, non riesce a utilizzarlo e quindi si dice va in stasi metabolica, cioè le sue funzioni non possono essere portate a termine. Questo non vuol dire che la leismania muoia attraverso l'allopurinolo ma rallenta le sue capacità perché è come se si intossicasse. Logicamente viene inserito nel capitolo dei lesmaniostatici, cioè blocca la leismania ma non la uccide. L'allopurinolo ha anche una seconda funzione, più volte dimostrato, è in grado di stabilizzare l'equilibrio immunitario. Si dice che abbia un'azione riequilibrante il sistema TH1-TH2. Con le conoscenze moderne è probabile che il fatto di rallentare le replicazioni delle leismanie diano il tempo all'organismo di rispondere meglio e quindi di dare un effetto riequilibrante del sistema immunitario. Quando si usa e perché si usa? Ci sono degli studi aneddotici che dicono che se l'allopurinolo è somministrato in prevenzione a animali esposti all'infezione, questi si ammalano meno. Dal punto di vista teorico potrebbe essere possibile perché l'animale ha in corpo l'allopurinolo, viene punto da un flebotomo infetto, le leismanie penetrano nell'organismo, si trovano già un farmaco che impedisce alle leismanie di replicare. E questo è il famoso studio aneddotico del cacciatore, della persona che tiene i cani all'esterno, e ti raccontano che con un utilizzo alternato di allopurinolo hanno meno ricadute, potrebbe essere. Un'altra azione data all'allopurinolo è il fatto che rallentando la replicazione delle leismanie si è associato a un prodotto che le uccide, glucantime, miltefosina, potenzia l'effetto di quest'ultimo perché da un lato blocchiamo le reazioni metaboliche, dall'altro le uccidiamo con farmaci che hanno l'effetto di uccidere le leismanie, l'azione è doppia e si utilizza a fine terapia perché se sono rimaste le leismanie, passatemi il termine, moribonde dal trattamento, il fatto di obbligarle a una stasi metabolica ne facilita la morte successiva. Considerate che una parte del trattamento lo fanno i farmaci, una parte lo fa il sistema immunitario, se alla fine del trattamento le leismanie sono meno reattive, possono morire più facilmente per azione del sistema immunitario. Quindi presentato così l'allopurinolo sarebbe il farmaco magico, ma in realtà tutti questi effetti teorici nella pratica li vediamo non sempre, cioè il cane nonostante prende l'allopurinolo, fa le recidive, tende ad andare in forma clinica se è esposto. Perché avviene questo? Perché la leismania, se continuamente esposta all'allopurinolo, parlo di leismania come parassita, si abitua a questo farmaco e trova dei metodi alternativi per creare energia e quindi non è più suscettibile all'azione dell'allopurinolo. Questo è il motivo perché i pazienti, se hanno forme attive di leismania nonostante prendano l'allopurinolo, tendono ad andare in recidiva specialmente dopo trattamenti successivi, cioè si dice che sviluppano resistenza al farmaco. Molte dei pazienti che noi vediamo vanno in sintomatologia clinica nonostante non abbiano mai interrotto l'allopurinolo. Qual è l'altro problema che si pone con l'utilizzo dell'allopurinolo? L'allopurinolo abbiamo detto che come funzione, noi lo utilizziamo perché viene incorporato dalla leismania come se fosse un nutrimento, non è un nutrimento e blocca le funzioni vitali del parassita, ma ha un'azione metabolica sull'organismo del cane, che è quello di bloccare la conversione dell'axantina in acido urico. L'axantina è un sale prodotto dal metabolismo proteico. Questa axantina non può essere eliminata così, va convertita in acido urico, che poi viene eliminata con le urine. È proprio questo blocco che porta all'accumulo dell'axantina. Ci sono cani altamente predisposti ad accumulare questa sostanza. Sono quei cani che dopo alcuni mesi di utilizzo tendono prima a fare i cristalli di axantina che si trovano nelle urine e facendo le ecografie cominciano a vere mineralizzazioni dei reni. Ora, dividendoli in due categorie, ci sono i pazienti che sono predisposti ad accumulare xantina e pazienti che inizialmente non lo sono, ma lo saranno se utilizzano l'allopurinolo per tanti mesi. Quindi ci sono quelli che svilupperanno cristallizzazioni precoci e quelli che svilupperanno cristallizzazioni in base al tempo di utilizzo. Quanta è la sicurezza? Per quanto tempo lo posso usare? E come posso fare a prevenire le cristallizzazioni? Per un'alimentazione di tipo normale, cioè senza cambiare l'alimentazione, consideriamo che il 90% dei cani mangiano croccantini, fino a 6 mesi di utilizzo non crea grossi problemi di cristallizzazione, tranne che in quel capitolo dei pazienti altamente predisposti. Ma superando i 6 mesi, più ci avviciniamo alla soglia dell'anno e più le cristallizzazioni diventano importanti, tanto da portare il cane in insufficienza renale. Per una nostra casistica interna, fatta su 2005, quindi 2005, pazienti con la leismania, il 7% aveva insufficienza renale in corso di leismania e circa il 25% lo avevano non per la leismaniosi, ma per l'utilizzo dell'allopurinolo. Cos'era successo? Aveva fatto cristallizzare nei reni la xantina e questo aveva portato alla lunga a un'insufficienza renale da mineralizzazione dei reni. Quindi più ci avviciniamo all'anno e più questa possibilità è frequente. Quindi cosa bisogna fare? C'è la diceria che togliendo le purine questo non avvenga. Non è così perché togliendo le purine bisogna ridurre il tasso proteico e togliendo il tasso proteico il cane utilizzerà come proteine i propri muscoli, demolendo i propri muscoli e liberando la purina ugualmente. Quindi non è il rapporto delle purine o delle proteine ingerite. È che dobbiamo fare in modo che la xantina venga eliminata più facilmente attraverso il flusso urinario. Quindi cosa vuol dire? Dobbiamo fare in modo che il nostro cane urini molto. E qual è uno dei modi di dargli più acqua? L'unico modo per fare bere facilmente il cane è dargli alimentazioni che contengono già acqua naturalmente. Quindi mi riferisco alle diete cucinate, lasciatemi il termine, non alle diete commerciali secche. L'altro modo è aggiungere l'acqua all'interno dei pasti. Se invece di dargli il riso, il macinato, così secco, secco con l'acqua naturale, ci aggiungiamo delle quantità d'acqua, queste poi verranno ingerite dal cane. Cosa bisogna controllare? Noi nei pazienti del centro, parliamo di centro di telemedicina quindi a distanza, facciamo acquistare le striscette per le valutazioni urinarie in cui ci dice il peso specifico urinario, sopra una certa soglia con le urine concentrate il rischio aumenta, il pH urinario e a determinati pH la calcificazione renale avviene più facilmente e ci dice anche se c'è sangue occulto nelle urine e infiammazione che è sintomo che si possono formare i cristalli dell'opurinolo. Quindi vi consiglio di andare a leggere i post che abbiamo fatto sul gruppo, i post che stiamo facendo sul blog. Se vi trovate in condizioni particolari contattateci e vi sapremo aiutare.